ilva la più grande acciaieria d'europa a varie sedi sparse per l'italia la più grande delle quali è quella di taranto io ci sono stato qualche anno fa taranto perché volevo vederla volevo rendermi conto e l'idea è stata non quella di vedere una fabbrica in una città ma quella di vedere una città in una fabbrica da quanto grande è l'ilva di taranto inquina e uccide ma a tal punto che è stato calcolato nella zona di taranto un aumento dell'incidenza del tumore ai polmoni del 30 per cento rispetto alla media nazionale la gente a taranto a volte la mattina si sveglia con la polvere arancione sulle pareti delle case tanto per farvi rendere conto però questa fabbrica da lavoro a 11.000 persone circa e per molti quindi la priorità è garantire il lavoro a queste persone piuttosto che fermare la morte per me questa cosa qua è disumana e mostruosa l'ilva di oggi così com'è va chiusa punto